Avere confidenza con Carova, vederlo, che si va a vedere le mostre oggi soprattutto, ma anche entrare nei musei, andare a Tossagna dove la Soteca li produce tutto il suo mondo, lo accoglie, lo propone in maniera così uniforme, è certamente importante perché gli italiani siano consapevoli di cosa è il significato dell'arte. E' importante che Carova faccia l'impresa di ricordare in Italia le opere portate fuori Italia dal Correone perché le persone davanti alle opere d'arte devono formare il loro gusto, la loro sensibilità. Sgarbi ha intervenuto alla giornata di studio su Antonio Canova e Padova agli eremitani. Nella città del Santo c'è una sola scultura del maestro di Possagno, la Stelle Giustiniani, opera giovanile custodita al museo. Mentre in Prato della Valle la statua numero 68 raffigura, in via del tutto eccezionale, un vivente contemporaneo del monumento. E' proprio Antonio Canova nell'atto di scolpire un'opera. Il grazie della città ancora oggi attuale ha 200 anni dalla morte del maestro di Possagno.